Sindaco, va al ristorante a festeggiare il Capodanno? Sicuramente no, a Montori abbiamo deciso in accordo con i ristoratori, oggi pubblicheremo l'ordinanza di non far attuare i cenoni. Tutte le iniziative che erano state organizzate per il Capodanno in accordo con i ristoratori, so che gli abbiamo chiesto un grande sacrificio, ma non si faranno. Il Comune poi si farà carico di dare dei ristori per il rimborso spese, tutto ciò che già i ristoratori hanno speso per i loro eventi. La sua è una decisione che avrebbe creato parecchie polemiche, invece lei ha avuto la fortuna o la bravura di farsi venire incontro i ristoratori che perdono una delle serate più importanti dell'anno? Guardi, ieri abbiamo iniziato l'incontro con i ristoratori, alcuni erano dubbiosi, poi abbiamo iniziato a approfondire e a spiegare che cenoni da 200 persone, 150 persone, 100 persone, al di là che non si potesse ballare, ma a mezzanotte oggettivamente sembra, il buon senso vuole che non possano stare seduti al tavolo, quindi comunque si sarebbero creati degli assembramenti, ma è la natura umana, ed allora perché rischiare di dover poi chiudere per diverse settimane facendo il sacrificio di un giorno? Quindi solo il 31, quindi i ristoranti saranno aperti poi nel periodo, ma il 31 il cenone non ci sarà e i bar chiuderanno alle 22.30, solo il 31. Ci saranno dei ristori per questo? Andrete incontro come amministrazione comunale? Sì, anche qui con i ristoratori definiremo dei criteri, abbiamo dei soldi, delle risorse a bilancio e daremo dei ristori, questo sicuramente. Chiariamo le cose a qualcuno, perché uno dice facile chiudere i ristoranti a Montorio, ce ne sarà uno, non è così, perché Montorio in provincia di Teramo è uno dei centri con forse la ristorazione tra le migliori. Guardi, ieri faccio dei conti così a spanne, c'era un cenone da 200, un altro cenone da 200 persone, poi c'era uno da 50, un altro da 50 e tante altre iniziative. Quindi conti alla mano con i ristoratori, a Montorio avremmo avuto il 31 sera circa 700 persone nei locali, 700 persone a mezzanotte stare seduti al tavolo mi sembra oggettivamente impossibile.